Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, Catania dopo aver preso il titolo definitivo dal Parma a Lorenzo Saporetti si è giudicata sempre a titolo definitivo a Emmanuel Mbed, che è uno svincolato. L'ultima stagione l'ha fatta al Cambur, serie biolandese. È camerunense, con un passaporto tedesco, è un classe 96 e poi è alto un metro del 96-98 e anche se è così alto non è lento nei movimenti, è abbastanza veloce. Poi è una bestia diciamo, è 98 kg con una petata fa volare l'appressario, almeno nei video che ho visto. Comunque, non lo conosco perché non seguo la serie biolandese, però guardando i video, le migliori giocate che ha fatto, mi sembra un ottimo giocatore. Se non arriva più nessun altro in difesa potrebbe fare anche il titolare a fianco a Silvestri. Niente ragazzi, questo video si conclude qui, ci vediamo con la prossima notizia di Calcio Mercato. Ciao!